allora tutto pronto momento incredibile i 50 picchettini di pavel bene allora pavel io le dico lei proceda però non vada troppo di fretta cioè se vuole può chiedere anche alla chat cioè non se li stucchi tutti proprio li apra belli decisi ma insomma gustiamoceli allora io intanto porto il punteggio intanto vi dicevo facciamoci un bel bingo un bingo dove vi regalo una sub mentre il buon pavel si stucca i pic siete in due e tre facciamo un bingo da 4.000 bingo da 4.000 cosa è il bingo digitate dei numeri da 1 a 4.000 quanti ne volete mobile ho pure la modalità limitata il primo che indovina il numero da 1 a 4.000 vince la sub regalata da me ricordiamo che i sub non vedono le pubblicità e c'hanno le mot del canale con cui andare a conquistare le fighe di giro su twitch quindi digitate quanti numeri volete quanti tentativi ovviamente un numero per tentativo non mi dite che sta lagga la stream danny mi puoi dire se lagga la stream ma posso lagga stai laggando tu come sempre la stream è a posto no la stream è a posto sei sicuro si sto guardando ok allora sarà la mia dashboard che lagga ag pacienze continua a guardare la misty feedback non so perché sti bingo incredibile ah posto posto ok ok allora intanto ma so 480 pc si vede bene perfetto intanto mi ero perso verratti subito un bel verratti ecco savanier danny preparati che arrivo orca madonna ecco 2 tots subito allora vinci quanti tentativi siete 1250 tentativi ancora non abbiamo il vincitore del bingo vi ricordo numeri da 1 a 4000 è una specie di tombola tra di bingo il primo che indovina il numero magico da 1 a 4000 che solo il bot conosce vince la sub regalata da me intanto pure un bel cavani per pavel 1650 tentativi quanto cazzo tra yardate ho purtroppo non vedo altri tots al momento un meuni che poi pavel e tutti questi sicuramente li butterà in altre sbc quindi sta scegliendo gli esterni gherzini vecchia volpe no per ora ancora niente quindi attenzione marchignos quindi terzo tots per pavel quindi marchignos verratti e savanier e siamo a attenzione tiago sailb back to fucking back siamo a 4 mancano ancora un bel po di picchettini e dugno off inizia a tremare qui se si superano i 15 massive profit un pavel bello spedito ricordiamo a tutti c'è un bingo in atto potete digitare quanti numeri volete da 1 a 4000 il primo che indovina il numero viene notato dal bot che viene che lo segnala in blu mi raccomando mod vi prego di dare un'occhiata quando vincono il bingo in maniera che poi regalo la sub al vincitore allora sembra esserci un momento di pausa di sculate per pavel guarda come escono sempre gli stessi giocatori credi ora niente non so forse sta a una metà dei pick aperti allora finora quindi trovato tiago silva marchignos verratti savani non mi ricordo ancora bingo in atto su vediamo chi si aggiudica questa sub sudatissima 4650 tentativi attenzione c'è un tots osyman questo pure è buono no è sempre gli stessi pure io quello sempre gli stessi allora abbiamo il vincitore sala xc sala xc allora un attimo solo mentre pavel continua io vado a cercare il vincitore fermi non digitate più numeri attenzione camara anche bingo finito bingo finito abbiamo il vincitore un attimo solo sala aspettate atal incredibile che culo questo eh questo mica male sala xc eh questo è un big boy salve mattia salve a tutti poi facciamo un recap di cosa ha trovato su 50 picchi intanto gg a sala per la vittoria del bingo se vi piacciono questo genere di contenuti pacchetti tipo apertura di tanti pacchetti consecutivi eccetera eccetera io su youtube ne posto un sacco io luna my love how are you did you finish the survivor quindi se vi piacciono questi contenuti il canale youtube intanto ne ha trovato un altro poi dobbiamo contare legno occhio perché qua stai rischiando aspettate che vi linko eccolo il marpione marigliano streppo allora non so quanti ne rimangono per quanto riguarda i riassunti di queste spacchettate che ci sono molto spesso oltre a stai in live se volete le potete trovare qui go intanto un altro tots raikovic mica male danny qua guardate è andata bene perché temo che se ne erano cento ma sai che easy ne trovava più più dei tuoi nuovi se fossero stati cento ero pure io ne erano parti novanti ne ho trovati più di quindici e quante ne hai trovato? diciotto ah diciotto la media è quella si tutto sommato è quella salvo i quelli di foot sono salvato al pelo allora si ora facciamo il conto di quanti ne ha trovati pure tu sei marigliano bravo sta bene allora abbiamo recap recap time neanche un cavani si un cavani non so capito va che poi vado a bugiarmi erpacco coi crediti attenzione pavel ha deciso di aprire erpacco coi crediti clamoroso finalizzazione bella bella a tutti voglio benvenuti la rivincita su martinezio par no neanche da cioci l'ho provato anche lì buonanotte checco voglio ben gli header niente è partuto vuole ben gli header è passata una sub e voglio ma allora era manuser credo le sub io l'ultima ah no aspetta si era manuser l'ultima sub che mi è uscita era manuser ronald matte ovviamente bella vincente lui si che è un uomo vero allora voi lo vedete dopo un bel po' perchè c'è delay su mixer dunque il pacco coi crediti ciao udevil è partito è partito pavel tot sono un tot attenzione tot colpo di scena col pacco coi crediti eeeh poca rob ragà a droppar i pick droppano l'avete visto poi vi posto il recap domani su youtube il problema il problema è che i giocatori forti li droppano raramente ecco attenzione walkout navas si vende pozo pozo a quanto sta pozo ma che fai impazzito pavel si sta stuccando altri pacchetti clamorosi tutto a posto vingus altri contenuti incredibili eh io non vedo io non capisco se queste sono notifiche si sono notifiche vecchie queste che si sono accumulate e stanno smaltendo attenzione un tot francia no no se la sente se la sente allora pavel si fermi si fermi finché in tempo pavel ah meno male sono finiti i pacchetti no no ancora controlla le percentuali e niente gli sei chiusa l'avena gli sei chiusa la vena pavel però still walk out ancora francia chi è varano no not today not today vabbè oh 87 86 ora si che sputtane i due milioni guardate come c'ha le idee ben chiare pavel omo vero continua gagliardo imperterrito impavido niente still no big boy tot vai pavel portace il contenuto pavel uno di noi ah giusto varanno non ne manca walk out giusto è 85 attenzione niente walk out ha schippato dai che questo è ronaldo dagli pavel chi è cavallo niente ha deciso di aprire tutto clamoroso contenuto incredibile big boys doveva andà così fratelli aio io dite quello che volete ma voglio uno spam di omo vero per pavel in chat hashtag omo vero non vedo altre proprio ci sta quando ci vuo ci vuo omo vero asce tag omo vero omo vero secondo te non li sta prendo lui e chi cazzo li sta aprendo e che cos'è un ologramma cos'è o tutto o niente omo vero ribadisco sta svaliggiando il negozio dell'EA immaginate l'EA che tiene traccia della roba nello store chi compra cosa e vede un pazzo che si stucca tutti sti pacchi con i crediti ultimo pacco con i crediti per pavel attenzione è un tot il lieto fine che tutti aspettavamo ma chi è ma chi cazzo è questo ma do cazzo gioca con la squadra di pompieri del paese che era quel logo silva ok bene allora io ringrazio il gentilissimo che sta facendo che sta facendo è impazzito sta scioppando qualcuno lo fermi pavel si fermi non mi sembra il caso lei ha già ha già scioppato che sta a fa niente ci ha ripensato aspetta fatemi togliere la musica che qua c'è un momento particolare cosa sta succedendo l'eay vuole mettere il bastone tra le ruote non gli fa completare la transazione si già è riuscito è riuscito a completare la transazione guardate con quanta rapidità manco è entrato nello store si è stuccato subito il primo pacchettino da 350 fifa point sta schippando tutto non gliene frega un cazzo ecco ti è la ludopatia delle quattro altro pacchettino attenzione tots vabbè still tots oh buono un 89 tots quanto sta questo 20k quindi sta a scarto vabbè poi c'è uno spam continuo di omo vero è come darvi torto workout inghilteria ericain no poca roba omo vero still sterling eh lo so manupà però credo pure io che sia full manual attenzione niente no workout no tots disperazione un neymar se lo meriterebbe si 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 confermo ultimo pacchetto per pavel last chance niente ha schippato alison castol e finisce qui l'avventura no vuole stuccarsi anche gli ultimi 450 fifa point niente manco le le tabelle io lo capisco lo capisco è un circolo vizioso quando inizi non ti fermi più se sei uomo fai l'icon no non non istigatelo a ste cose che già ha dato una dimostrazione di di mascolinità non indifferente no si stucca l'icon è partito clamoroso clamoroso si stucca l'icon come le slot machine guardate scarta tutto non gliene frega un cazzo di niente grande forza economica vai pavel ormai come il gladiatore hai conquistato la folla pavel conquista la folla e conquisterai la libertà madonna che che hype guardate come ci tiene sulle spine aperto attenzione una S esotica a sto punto non ci poteva da Nedved ok 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 allora ringraziamo il gentilissimo pavel per l'apertura di questi pacchetti per questo contenuto assolutamente ma che sta fa che sta facendo ma se ne stucca una è impazzito se fa un'altra icon non da vincente che ha fatto aperto questo è l'aico no cazzo già è partito spedito ecco ti pigliato sto agi dritto nelle gengive allora pavel io la ringrazio per questo incredibile contenuto quando vuole sempre a disposizione che sta facendo fer 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 che sta facendo qui si va ad oltranza io non non capisco cosa sta succedendo pensavo di aver visto tutto dopo pini ma qui siamo al next level se esce nedved regalo 10 sub 10 sub sogno questo finale epico è partito è partito ha aperto pavel questa terza icon vuole solo il fenomeno non bene non bene raul non credo che gli vada bene al buon pavel ah no butragheno butragheno che fai o butti no butragheno stacce pavel mica male no no pavel ma che sta facendo lei ha finito i giocatori si fermi non può andare ad oltranza pavel lei si è chiusa proprio no ha trovato uno buono se lo tenga pavel ma che cazzo fa ha ricominciato ad aprire io no oh my god a comprare io no attenzione le macumbe di pavel che si ferma sta per procedere al momento opportuno all'apertura di questo pacchetto quando se lo sente è partito ebbene si ennesima icon di questa sera per pavel ecco chi è bobby moore no ferdi allora pavel io direi veramente si fermi tutto ciò ha raggiunto un livello di ludopatia veramente troppo troppo elevato l'ultima anche i supereroi sanno quando sono più deboli del male è anche saggio è partito è partito pavel per me ripartirà dal 21 fabbio easy proprio baglioni giovanotte cristina d'avena no io invece vi dico ci vedo una una busta italiana la van der sa edwin anyway ringraziamo il gentilissimo pavel per l'apertura di tutti questi pacchetti ricapitolando pavel aperto 50 pic tots 50 pic ligand pardon aperto tutti i pacchi coi crediti nello store tutti i pacchetti speciali tutti coi crediti e ha farmato 5 per me pavel homover